Non è la prima volta che Mario Ferri, meglio conosciuto con il nome di Battaglia di Falco, riesce a fare irruzione in una partita dei mondiali di calcio. Prima dell'ultima incursione di ieri sera, durante il match degli ottavi di finale del mondiale brasiliano tra Belgio e Stati Uniti, il giovane di Montesilvano aveva invaso il campo da gioco in Sudafrica in occasione del mondiale del 2010, durante la semifinale Germania-Spagna. Prima ancora, invece, si era mostrato in Mondovisione durante l'amichevole Italia-Olanda del novembre 2009 per consigliare la convocazione di Antonio Cassano a Lippi, che non lo ascoltò, e durante Samp Napoli, dove abbracciò proprio il suo idolo, Fantantonio. Questa volta il Falco si è presentato con la solita maglietta di Superman, inneggiante a Ciro Esposito, il ragazzo tifoso del Napoli morto qualche giorno fa dopo una lunga agonia perché raggiunto da un colpo di pistola esploso da un tifoso romanista durante gli scontri prima della finale di Coppa Italia giocata all'Olimpico. Accanto alla dedica ad esposito, quella per i bambini delle favelas brasiliane, Falco è riuscito a deludere la sicurezza dello stadio Arena Fontenova di Salvador de Bahia con un accredito da fotografo di bordo campo. Subito dopo l'invasione è stato fermato dai poliziotti brasiliani. Ferri ne è stato già condannato al carcere scontato per pochi mesi nel 2011 prima di passare ai domiciliari e ha avuto il divieto d'ingresso in qualsiasi stadio fino al 2018. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, ha dichiarato lo stesso Ferri, cheppure aveva promesso di aver chiuso con le invasioni.